La realizzazione di questo progetto rispecchia un po' quella che è sempre stata la nostra idea di fare assistenza, di assistere questi bambini, cioè quello di farci carico di tutti quelli che sono i loro bisogni, non solo dei bambini ma anche dei genitori e garantire anche quello che è così il benessere di vita all'interno di un ambiente così altamente tecnologico. Perché se è vero che l'alleanza terapeutica nasce da una buona relazione che si ha, è altrettanto vero che l'ambiente comunica e quindi riuscire a dare dei messaggi che siano di cura è importante non solo per i bambini e per i genitori ma anche per gli operatori che lavorano in ambienti altamente tecnologici come questi. Questo progetto sarà possibile grazie all'opera di Silvio Irilli, di Ospedali Dipinti e soprattutto al sostegno e all'averci creduto della Fondazione Sanus Pueri e ovviamente a tutti voi che continuamente continuate a sostenerci e a credere in questo progetto con le vostre donazioni. Grazie! 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 Grazie!